Il contatto con la colonia, vediamo se riusciamo a studiarlo senza il contrasto del finestrino. Grazie a tutti. La punta della matita per dare un'idea della scala. Il punto di riflesso del pinhole si trova qui. E' in buona ombra. Mentre il centro del sole è un po' più in avanti. E' a scomparire. Alle 12, 19 e 13. Grazie.